Calcio d'angolo, rete, 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 mi pare, autorete mi pare, giusto? L'autorete mi pare, autorete, su calcio di punizione, passa in vantaggio la mia scastelfrentano, 1-0 al nostro favore in questo primo tempo, alla centro, ecco ripresa del gioco, 1-0 per la Virtus Castelfrentano nel primo tempo, Virtus Castelfrentano 1, Draghi San Luca Tessa 0.